Tutti i centri Dammi 20 minuti si stanno preparando per la riapertura. Questa è la linea guida di condotta del servizio nei nostri centri per questo periodo post coronavirus e per darti la sicurezza, il comfort e la serenità necessaria per poterti allenare e concentrare su te stesso, sui tuoi obiettivi e sulla continuità per raggiungere un risultato concreto che rientra nella nostra missione, cioè cambiare la tua vita. Ci sono grandi notizie per i nostri clienti. La prima è che erogheremo sedute singole, quindi avrai un trainer totalmente dedicato a te. Le slot saranno di 45 minuti per dare il tempo agli operatori dei centri di mettere lo spazio in condizioni ottimali per poter erogare la prossima seduta. Per agevolarci nello svolgere al meglio il servizio nei massimi range di sicurezza ti chiediamo semplicemente di arrivare al centro già con il tuo underwear d'allenamento sotto i vestiti. Non preoccuparti, abbiamo già pensato anche a quello. Ti forniremo l'underwear per poterti allenare che diventerà tua personale senza nessun rischio, neanche il minimo di contaminazione. Potrai quindi dopo l'allenamento portarla a casa e lavarla e disinfettarla come lo ritieni opportuno. Chiediamo inoltre ai nostri clienti di non presentarsi al centro in presenza di sintomi influenzali. Venire all'appuntamento ovviamente munito di mascherina e non toglierla per nessun motivo. Lavarsi in maniera accurata le mani prima e dopo l'allenamento. Sarà una buona abitudine evitare di toccare meno superfici possibili durante la permanenza nel centro e di usare i camerini giusto l'indispensabile per cambiarsi. La seduta va prenotata con anticipo di 24 ore. Che cosa faremo noi invece per garantirti la sicurezza, la qualità del servizio e l'igienizzazione dell'ambiente. Prima e dopo l'allenamento di ogni persona provvederemo a igienizzare e sanificare i jacket con prodotti specifici che ne garantiranno l'utilizzo in totale sicurezza. Sempre prima e dopo l'allenamento i nostri operatori provvederanno a igienizzare tutte le superfici di contatto. Fra una seduta e l'altra verranno aperte porte e finestre per far cambiare l'aria. Tutti i nostri trainer ovviamente svolgeranno il servizio indossando mascherine con classe di protezione FFP2. Abbiamo creato degli ipositi spazi sul pavimento per garantire una distanza di sicurezza di almeno 1,80 m fra il trainer e la persona che si allena. Ovviamente troverete tutte le forme di pagamento che non prevedono lo scambio di contanti. Allestiremo l'ingresso con delle scatole per contenere le scarpe all'entrata. Ma non è finita qui. Soltanto in tempo di rodare un po' il meccanismo e poi ti stupiremo con tante altre novità. Vedrai, scoprirai un nuovo modo per allenarti a casa e da casa. Totalmente innovativo. Ma non ti anticipo nulla perché ne parleremo nei prossimi video. Noi siamo pronti per partire. Tu sei pronto per cominciare ad allenarti? Ti aspettiamo nei 100 dammi 20 minuti. A presto!